Ciao! Ero sull'altalena e voleva salirci anche Pando, così ho contato fino a dieci e poi gli ho lasciato il posto, ma Pando non contava bene e questo mi ha fatto arrabbiare! Così sono andato davanti a Pando per fermarlo, ma l'altalena mi ha colpito! Boom! Mi ha fatto male, ma non è stata colpa di Pando, poi è toccato di nuovo a me e Pando mi ha spinto in alto fino al cielo! Anche se tocca a voi, non correte mai davanti a un'altalena! Andare sull'altalena è una cosa da Bing! Tocca a voi! Ho trovato un palloncino e Flop lo ha gonfiato! Essi potevano fare molti giochi, ma mentre facevo Boing, Boing è rimasto schiacciato e allora ha fatto... Quando i palloncini scoppiano non si può più fare niente, non si possono più gonfiare! Così il palloncino ora sta nella scatola dei ricordi! Se si rompe una cosa a cui tieni, mettila nella scatola dei ricordi, lì sarà al sicuro e non la dimenticherai mai! La scatola dei ricordi è una cosa da Bing! Ciao, ciao! Ciao! Stavo giocando e non sono andato a fare la pipì insieme a tutti gli altri e Coco mi ha trovato per ultimo, quindi ho vinto io! Ma poi ho fatto la pipì nella mia tutina e non è stato molto carino, però Amma ha pulito e sistemato tutto e Sula mi ha dato delle mutandine asciutte! Bisogna fare la pipì prima di giocare o smettere di giocare per farla! Nascondino e fare pipì sono cose da Bing! Chuf chuf! Io e Flop abbiamo fatto i bisconigli! Ne abbiamo fatto uno per Bing, uno per Coco, uno per Charlie e uno per Flop! Ma non abbiamo sentito il pulcino timer che ci avvertiva che erano pronti! E così si sono bruciati tutti quanti dentro il forno arroventato! Noi avremmo dovuto decorarli come quelli nella foto del libro! Se bruciate i vostri biscottini non potrete mangiarli, ma potrete usarli per giocarci insieme come se fossero pupazzi! Fare i biscotti è una cosa da Bing! Sanno anche ballare! Ciao! Bando e Dio giocavamo con il mio treno e facevamo chuf chuf dentro il tunnel! Chuf chuf sul ponte sospeso e sulla passerella! E giù dallo scivolo! Poi però l'ho fatto scendere da troppo in alto e ha fatto crash! E poi si è rotto tutto ed io ero triste! Era impossibile aggiustarlo! Allora ci ho fatto un razzo spaziale! Se il tuo giocattolo fa crash e si rompe in mille piccoli pezzi, puoi sempre provare a costruirne un altro! Il trenino è una cosa da Bing! E ora è un razzo! Zula è venuta da me a giocare e non volevamo salutarci! Così abbiamo nascosto le sue scarpine! Io ne ho nascosto una nel water e si è tutta bagnata e sporcata! E Zula ha detto che non era un bel saluto ma un brutto saluto! Così io ho prestato il mio stivaletto giallo a Zula e poi ci siamo salutati! Ciao! Se non si tratta di carta o di popò o di un fazzoletto non va mai buttato nel water! Salutare gli amici è una cosa da Bing! Ciao! Ciao! Io ed Oppity giocavamo nel parco e a un certo punto me lo sono perso! Io ero triste perché pensavo di averlo perso per sempre! Allora Amma ha detto non preoccuparti! Così mi sono concentrato e mi sono ricordato tutti i posti dove siamo stati! Ed è stato così che ho ritrovato Oppity! Perdere e ritrovare è una cosa da Bing! E non perderti di nuovo! Dice che non lo farà! Ciao! Flop mi ha fatto un sandwich alle carote e abbiamo tirato fuori il carrellino per fare un picnic! Ci abbiamo messo dentro una coperta i nostri sandwich, le bibite, i biscotti e le mutandine! E abbiamo detto andiamo a fare un picnic! Ma poi ha cominciato a piovere tanto e io ero triste! Così abbiamo tirato fuori tutto dal carrellino e invece che al parco abbiamo fatto un picnic dentro casa! Perché quello che serve per un picnic è solo un bel posto dove mangiare e sopra una coperta! Fare un picnic è una cosa da Bing! Anche se è in cucina! Ciao! Io e Sula abbiamo trovato un palloncino che era volato via! Per non dovercelo sempre dividere, Flop ha fatto due fili per poterlo tenere entrambi! Ma poi non siamo riusciti a restare uniti! Ed il filo ci è sfuggito e allora il palloncino è volato via! E quindi nessuno di noi poteva più giocarci! Allora Flop ha fatto il paperotto per continuare a giocare ancora! Se non vuoi aspettare il tuo turno puoi sempre inventarti un nuovo gioco! Restare uniti è una cosa da Bing! Paperotto qua qua qua! Ciao! Io e Coco ci siamo mascherati e io ero il re Bing! Quindi mi serviva una corona ma ce n'era una sola! E anche la principessa Coco ne voleva una! Così abbiamo rotto la corona e i gioielli sono andati ovunque! È stato davvero brutto ed eravamo entrambi tristi! Ma ci siamo divisi i gioielli e Flop ha costruito due corone così ognuno ha avuto la sua! Mascherarsi è una cosa da Bing! E io sono il super magico leone re Bing! Ciao! Sula mi ha mandato un biglietto così anch'io ne ho fatto uno! E ci ha messo la pasta, i bastoncini, i gioielli e anche le piume! Sula adora tutte queste cose! Ma poi la colla è schizzata tutta! Ed è diventato brutto e io ero triste! Quindi ho coperto la colla con i brillantini! E andava molto meglio! Se pensi che il tuo biglietto si sia rovinato forse puoi fare ancora qualcosa! Un biglietto per Sula è una cosa da Bing! E io lo adoro! Ciao! Stavamo cercando i nostri talenti ma non riuscivo a capire quale fosse il mio! Così ho provato a fare tante cose! Poi Pando ha fatto una capriola e mi ha calpestato un orecchio! Oh! Mi ha fatto male! Però è stato utile perché ho scoperto il mio talento! Il mio talento a fare... Pic-Poc con le orecchie! Oggi ho imparato che tutti noi sappiamo fare qualcosa di speciale! Bisogna solo cercare finché non scopriamo cos'è! Scoprire il talento è una cosa da Bing! E qual è il vostro talento? Ciao! Sula ha portato dei cuori da attaccare e li abbiamo appiccicati sulle nostre cose preferite! E alcune cose erano le stesse, mentre altre erano diverse! Io volevo scegliere Opity, però Sula l'ho scelto prima di me! Io mi sono arrabbiato! Ma Flop ha detto che Opity è differente! Così Sula ha tolto il cuore da Opity e l'ho appiccicato addosso a me! È difficile condividere il tuo preferito! Ma è davvero difficile condividere il tuo super preferito! Le cose preferite! Una cosa da Bing! Specialmente Opity! Volevo leggere la storia di Opity Vush e il guardiano della luna e ho messo la tuta spaziale così potevo fare Vush come Opity! Ma poi il libro ha fatto Splash nella vasca! E i libri non amano fare il bagno, ma non fa niente perché se conosci bene una storia e ce l'hai tutta in testa, la puoi raccontare! Anche se il libro è tutto gocciolante! La favola della buonanotte! È una cosa da Bing! Buonanotte Flop! Ciao! Era il compleanno di Sula! Così ho scelto per lei un regalo davvero molto speciale! Una bacchetta scintillante e rotante! Io volevo tenerla per me! Ma invece ho dovuto darla a Sula! A Sula è piaciuta tanto! E poi faceva anche la musica! Quindi era davvero bellissima! È difficile dare un regalo quando si vorrebbe tenerlo! Ma quando lo si dà ad un amico! Ci si può sempre giocare insieme! Fare un regalo? È una cosa da Bing! Buon compleanno, Sula! Ciao! Coco è arrivata con Lula Hop e Uli! E ci si gioca così! Ula! Ula! Ed è difficile! Io e Charlie abbiamo trovato tanti altri modi con cui giocarci! Come Lula Salto! E Lula Tunnel! Poi Uli ha fatto crack! E nemmeno Coco riusciva più a farlo girare nel modo giusto! E io ero triste! Così l'abbiamo usato per tutti gli altri Ula giochi! E ci sono tanti modi con cui giocarci, giocarci e giocarci! Ula Hop è una cosa da Bing! Ula Hop! Io e Flop abbiamo fatto i bisconigli! Ne abbiamo fatto uno per Bing, uno per Coco, uno per Charlie e uno per Flop! Ma non abbiamo sentito il pulcino timer che ci avvertiva che erano pronti! E così si sono bruciati tutti quanti dentro il forno arroventato! Noi avremmo dovuto decorarli come quelli nella foto del libro! Se bruciate i vostri biscottini non potrete mangiarli! Ma potrete usarli per giocarci insieme come se fossero pupazzi! Fare i biscotti è una cosa da Bing! Sanno anche ballare! Sanno anche ballare!